allora ciao a tutti come avete visto ho pubblicato una foto di queste creazioni in resina che ho fatto con un po di flakes e quelli che ho preso con la collaborazione col sito and beats di cui vi metto magari il link sotto nell'info box e anche i video delle varie cosine che ho comprato perché ho potuto fare in questa collaborazione perché ho preso veramente tanta roba molto carina e vi lascio anche un coupon di sconto se lo può interessare e ho utilizzato anche i fiori che ho preso su amazon allora vediamo un po di cose prima di tutto vi volevo chiedere un consiglio ho fatto questa prima parte vediamo di farvela vedere meglio questo qui è uno stampo che avevo preso da let's racing che vi consiglio di andare a vedere io l'ho preso su amazon e però li sto seguendo anche su instagram e ci hanno degli stampi veramente molto molto belli e questo qui sarebbe praticamente la mano di fatima che se vi ricordate avevo fatto questa qua e come vedete qui c'è un buco dove ci potete mettere l'incenso a me sono queste cose mi piacciono da morire però questa qui questa tipologia qui non l'avevo mai fatta avevo fatto solo questa di qua e volevo chiedervi a voi qualche consiglio su come finire di colorarla allora questa parte centrale l'ho fatta con i pinata col con scusate i lumini ok gli alcool link 15 ho usato il il navi il til e il viola e ok poi qui sopra ci abbiamo queste lune con in mezzo diciamo il sole utilizzato loro però il resto non so come farlo datemi voi qualche consiglio fatemi sapere su questo adesso poi magari metto anche un post dove potete commentare e così mi date un consiglio perché non so veramente come come completarlo quindi ho bisogno di voi e questa vabbè è una cosa che finisce lì poi avevo provato a fare con quei fiori che ho preso su amazon qualcosa con la resina uv e il bezel si chiamano sommi charm ed è venuta volevo fare una cosa cioè nella mia testa era tutt'altro comunque uno sfondo fatto con tutti i glitter e amo di tramonto quindi avevo usato il blu l'azzurro il viola rosso e sotto verde per fare il prato in mezzo un fiore e questo è il risultato vediamo se mi metto sotto la luce che magari chiaramente vedete meglio e non si vede niente praticamente si capisce che sia un fiore non si vede niente venuto malissimo e vabbè così quindi questa è una ma adesso andiamo invece alle cose più importanti dunque iniziamo con questi qui che ho utilizzato come vedete i flakes di questa collaborazione con endbeats e se sono venuti carini quindi praticamente ho messo la resina trasparente e riempita di questi diamantini parte questo che ci ho messo una violetta e se viene fuori una cosa carina gli faccio il doppione per farci gli orecchini vediamo un po questa qui è una foglia ed è venuta così per carina mi piace se dove stavo riprendendo mettiti a fuoco vediamo molto carina faccio un qualcosa così magari ci aggiungo sopra una perlina e resina vediamo carina qui c'è la texture c'è un pelo del cane chiaramente c'è anche la texture ok l'ho tolta la texture della foglia non so se andarla a colorare ma se non mi lascerei proprio così perché oggi non mette a fuoco però è carina quindi questo ci faccio il doppione poi abbiamo la luna che ho utilizzato invece i flakes quelli bianchi che vi ho detto tante volte che mi piacciono tantissimo perché sembrano dei cristalli di ghiaccio l'azzurro e gli ola colori sembra caso anche qui c'è un pelo di cane ed eccola qua anche questa molto carina anche di questo ci vado a fare il doppione sto vedendo se c'erano altri peli perché tanto ne avevo visto un altro vabbè dopo li andrò a togliere comunque il bottoncino c'era quassù quindi andrà così carina mi piace poi ho fatto un cuoricino questo qui questa sì carina però mi si sono un po' spostati i diamantini però dai la vado ad usare la vado ad usare lo stesso e qui ho utilizzato i flakes bianchi rosa e viola lo volevo fare perché pensavo nella mia testa che le avessi presi anche sul rosso invece non è vero non lo so cosa perché ero convinta di sta cosa comunque questo qui poi andiamo a vedere questo qui con la violetta questo qui è un rombo vediamo un po' come posso mettervi per farvi vedere meglio vediamo così eccola qua allora allora no non mi piace non mi piace che rimanga forse il trasparente dietro dovrei provare a colorare lo sfondo dietro e l'ideale sarebbero colorarlo con quel giallino sotto come come la violetta però non mi piace ho provato questo questo fiore che però tra tutti quelli che c'era nella confezione era quello nonostante io adoro le violette non non sono proprio bellissimi hanno delle macchie sono un po' stranini questi non so datemi anche voi qualche consiglio io proverei a colorare il retro in questo giallino molto chiaro chiaro provo a fare così vedremo in caso vi faccio sapere l'ultimo non usati i flakes ma dei glitter a pallini vediamo un po' come è venuto non si capisce niente perfetto benissimo eccolo qua mi piacevano perché c'era questo color mettiti a fuoco bronzo marrone non lo so mi piaceva però no non mi piace questo non fate caso che qui non ho lo smalto ma ho preso quello per vedere l'ossigenazione dell'ossigeno nei polmoni è da tenere in casa e ce l'avevo sempre bassissimo perché deve essere dai 96 in su mi diceva il medico invece c'avevo 83 82 andavo dopo in ansia praticamente il problema era lo smalto perfetto chiuso parentesi ok adesso andiamo alle cose che mi interessano di più allora ho fatto questa plagettina metto un attimino più indietro con i fiori io spero vivamente sia venuta bene perché ci tengo particolarmente l'unico problema è che dietro ho fatto come vedete lo sfondo nero ma non ho per niente il nero lo devo trovare quindi mi è venuto un un color fumo ok però va bene così devo togliere questo qui vabbè il dietro non è proprio asciuttissimo il davanti sì perché ho fatto chiaramente due basi ok questo sono curiosissima sono più curiosa della tavola Ouijio ma anche questo vediamo uno due e tre no è meraviglioso wow no ma che meraviglia è stupenda sì direi che su ste cose con i fiori il nero ci sta bene allora come vedete sotto ci ho messo dei flakes rosa e verdi e poi in mezzo questo fiore no ma è stupendo meraviglia allora qui praticamente di disegno c'è solo la luna come vedete due stelline e la scritta Ouijua cosa le faccio oro ditemelo voi così lo vado a fare e aspetto i vostri commenti che bello ma è bellissimo mi piace un botto e che cacchio stavo dicendo aspetto dicevo i vostri commenti e dopo quanto lo andrò a fare la posto la foto su instagram quindi il mondo della marti se vi va andate a seguirmi ma questa è stupenda è meravigliosa mi piace da morire io questa la userei anche come ciondolo di una collana è bellissima sono contenta ok allora adesso andiamo alle note dolenti perché c'ho paura e vi assicuro l'ho fatta con tanto 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 amore questa sia questo stampo che quello della plangettina le ho prese sempre da Let's Raisin e anche qui a parte che vi dico una cosa che è successa io dico sempre che devo riprenderle queste robe praticamente mentre stavo preparando la seconda colata di questa perché prima ho fatto la base trasparente con i fiori ci ho messo un pochino di flakes eccetera e ho colorato le letterine con l'oro già sotto adesso vediamo cosa è successo spero che non di non aver fatto un disastro però le ho colorate picchiettando con un pennellino quindi non è che sono andata proprio a definire vediamo un po' e praticamente stavo mescolando la resina questa qui nera che più che nera è fumè come sempre mi è cascata la ring light qui sopra io spero qui c'è un po' una bozza spero che che sotto non si veda niente anche perché ci vuole un sacco di resina per ste sti stampi però 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 va bene così allora io ho paurissima credetemi perché mi dispiacerebbe che che sia venuta male insomma allora tre due uno eccola qua allora mi mi aspettavo qualcosa di meglio allora sbagliatissimo picchiettare le lettere tutte le robe no perché qui come vedete rimane tutto tutto l'alone il sole e la luna mi sono venuti malissimo quindi gne gne poi c'è questo qui bianco non si vede niente forse questa sarebbe meglio sto riflettendo io nel mentre fare lo sfondo bianco piuttosto che nero perché magari queste qui hanno più dettagli rispetto magari le plangettine e allora per risaltare di più è meglio uno sfondo nero ho visto un sacco di video e ho sempre fatto lo sfondo nero non lo so fatemi sapere anche di questa è stralucidissima come vedete però non non vedo i fiori molto il risalto sono un po' rimasta male non mi piace niente la devo rifare datemi qualche qualche consiglio perché ci tenevo particolarmente poi ho usato anche i fiori più belli ed è andata male 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 boh datemi insomma i vostri pareri allora vi rifaccio vedere le varie creazioncine eccolo qua di questa sono non contenta ma di più è meravigliosa molto carine anche queste qui questi proprio no quindi di questi ci andrò a fare appunto la coppia dopo vi faccio vedere anche come andrò a montare l'orecchino questi vediamo come sistemarli ma questa cioè non è brutta ma non è neanche bella non lo so non lo so non lo so datemi voi qualche consiglio su come posso magari modificarla o come fanno un'altra e mi viene proprio da dire per farla con i fiori su un uno sfondo bianco sono proprio non lo so neanche io sinceramente niente questo è tutto cioè vista da lontano sembrerebbe anche bella dice anche wow guarda quante luci eccetera però quando la guardi così no per me e no basta niente questo è tutto fatemi sapere che cosa ne pensate aspetto vostri consigli e pareri e ci vediamo presto un bacio ciao